Innanzitutto siamo davanti a una compagine politica che governa dal novembre 2011 e poi perché la vera legge di stabilità è l'obbligatorietà dell'applicazione dei costi standard, ovvero se la Sicilia ha 22.000 forestali e il Veneto ne ha 400, prima di chiedere al Veneto di tagliare, chiede alla Sicilia di aggiornare i suoi dati. Non usa mezzi termini il presidente della regione Luca Zaia. Il Veneto è stanco di vedersi tagliare i servizi e ridurre i trasferimenti, nonostante una politica virtuosa. Il governatore attacca l'operato del governo Renzi senza giri di parole, proprio da Roma dove ha partecipato alla conferenza Stato-Regioni. È un'Italia a due velocità anche per quello che riguarda i conti delle regioni che, nel caso del Veneto, sono promosse dalla Corte dei Conti. Ecco perché stridono ancora di più quei tagli verticali decisi dal governo senza considerare le singole situazioni, tagli verticali che Luca Zaia non si stanca di contestare. Non condividiamo ma i nostri cittadini fanno ancora di più, pagano tasse che poi inviano a Roma. Dal Veneto 21 miliardi ogni anno di tasse restano a Roma e Roma letteralmente le spreche.